Ci conosciamo da poco perché comunque è una settimanella che ci alleniamo, però credo che abbiamo fatto una buona prova. È vero che è tutto da vedere, però diciamo che l'intesa sta crescendo. Non c'è nessun problema, ci proviamo, nel senso che prevalentemente a destra, però anche a sinistra comunque... Sì, diciamo quasi uguale. Quando ci difessero nella tua scelta di Iorino D'Avellino, ti ha chiamato in margine? No, sicuramente è centrata perché comunque ho un anno e mezzo che sono con lui e mi sono trovato bene. Però è vero anche che prima che arrivasse il mister c'erano stati dei contatti. Per ora, non lo so, sicuramente due piazze calde, forse questa di più, forse un po' di più. Niente, poi vediamo. Per ora mi sto inserendo sicuramente bene. I ragazzi comunque mi hanno fatto sentire a mio agio, quindi per ora tutto bene, poi si vedrà. Sicuramente questo non è compito mio dirlo, sicuramente noi ci stiamo trovando bene. Ripeto, è una settimana che ci stiamo allenando, quindi non è tanto, anzi è pochissimo, però stiamo migliorando pian piano. Sì, responsabilizzante, credo che dà anche una carica in più. Sicuramente è bello giocare davanti a gente che ci tiene, ti fa sentire che c'è. E poi le cose devono andare bene, però sicuramente è un input, è una carica che mi dà, o almeno a me è così, mi dà sicuramente. No, no, sicuramente il pubblico non si è fatto mancare, ci ha fatto sentire e sicuramente questa è una cosa positiva. È bello, è stato bello vedere l'impatto subito all'inizio, poi è stata anche una giornata particolare per quello che è successo e sicuramente è stata una buona domenica. Prima comincia sarebbe meglio, però sappiamo quello che è successo e ci prepariamo al meglio per il 6. In Serie B credo che non si può dare un giudizio, soprattutto all'inizio. È ovvio che noi calciatori vogliamo fare il massimo, si vuole andare il più lontano possibile e poi sarà al campo a parlare. Soprattutto la B abbiamo visto l'anno scorso squadre che a luglio, agosto le davamo magari prime, seconde, abbiamo visto cosa hanno fatto. Quindi bisogna lavorare e poi vedere passo per passo, ma credo che sia la realtà, non è un fatto di… Hai messo l'accordo con il direttore? No, ma credo che sia… L'ha detto anche lui. Ah, sì? Mi ha passato il foglietto. No, ma credo che sia la realtà dei fatti, perché la B è così. No, beh, sicuramente abbiamo un attacco di primo ordine, però sicuramente dobbiamo dargli una mano, se no è dura. No, ma credo che sia la realtà dei fatti, ma credo che sia la realtà dei fatti, ma credo che sia la realtà dei fatti.